signorina le serve e basta non le serve allora guardi c'è l'altra luce si metta qui dove va? non la trovo mai lascia stare cadete un cerchietto non lo metti in barazzo? no, figurati prego, prego va bene dai, me ne vado vedrai che me ne vado grande Raino Demetra Heart è il secondo singolo estratto dall'album Back to Basics della cantante americana Cristina Aguilera cantata in anteprima agli MTV Video Music Awards del 2006 la canzone è una ballata intensa scritta da Cristina Aguilera Linda Perry e Mark Robinson è interamente dedicata al padre Linda Perry che è pentita di non aver goduto della presenza del padre in vita ma di averlo rifiutato ed essersene andata via ora che è morto è distrutta dall'idea di averlo perso per sempre vorrebbe avere una seconda occasione per poterlo riabbracciare ma sa che non ci potrà mai essere faccio a lei, lo è? con Heart Demetra grazie a tutti 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 grazie a tutti